Levo questa spada alta verso il cielo Giuro sarò rocce contro il fuoco e il gelo Solo sulla cima tenderò i predoni Arriveranno i molti e solcheranno i mari Oltre queste mura troverò la gioia O forse la mia fine comunque sarà gloria E non lotterò mai per un compenso Lotto per amore, lotterò per questo Oggi vorrei parlare dell'Agile Italia È stato creato un tessuto sociale dal punto di vista del volontariato veramente molto importante È un cammino che non si ferma e siamo capaci di grandi cose Ci muoviamo comunque con i nostri strumenti in mano Non abbiamo paura di affrontare le sfide E poi diamo concretezza ai nostri sforzi lavorando insieme Far trovare un clima familiare all'interno dell'associazione Dove le persone possono confidarsi, trovare consigli utili e pratici Questa è la sfida che ogni associazione dovrebbe affrontare e vincere Non temere il drago, fermerò il suo fuoco Niente può colpirti dietro questo scudo Lotterò con forza contro tutto il male E quando cadrò tu non disperare Per te io mi rialzerò Rappresento l'Agile Italia Il Comitato di Diabeticare L'Inel Diabete è un progetto che vuole essere vicino ai bambini E alle famiglie nel momento dell'insorgenza In questo fulmine che capita con l'insorgenza del diabete Lino è un pupazzo È un pupazzo che abbiamo fatto realizzare dalla Trudi Accompagnato da un libro Questo qua pubblicato dalla Giunta Editore Che regaliamo a tutti i bambini nel momento dell'insorgenza Diabete Sportreni è un progetto per tutti i giovani da 6 a 30 anni Che già dalla sua stesura iniziale Agile Italia ha deciso di condividere Con tutte le associazioni di persone con diabete Con tutte queste attività Agile Italia ha attivamente contribuito A far luce sul diabete Come prevedono gli scopi E la finalità del nostro statuto E amore mio grande amore Che mi credi Vinceremo contro tutti E resteremo in piedi E resterò al tuo fianco fino a che vorrai Ti difenderò da tutto Non temere mai E amore mio grande amore Che mi credi Vinceremo contro tutti E resteremo in piedi E resterò al tuo fianco fino a che vorrai Ti difenderò da tutto Non temere mai Ci sarà una luce accese di speranze E ti abbraccerò per darti forza sempre L'esordio è un evento traumatico È un fulmine a cialzereno per la famiglia Per chi oggi in questa stanza è il genitore Sa cosa significa l'esordio Il bambino che deve ritornare a scuola dopo l'esordio Non può lasciare a casa il diabete Gli insegnanti hanno diritto ad essere formati In grado di aiutare il bambino Questo cerca di fare quotidianamente a Gli Italia Che da anni è motore energia di una lampadina Che tenta di far luce sul diabete giovanile Il nostro ruolo è di fondamentale importanza Il nostro compito è proprio quello di supporto alle istituzioni In cui il cittadino non è solo portatore di problemi e bisogni Ma anche di risorse e di capacità E' amore mio grande, amore che mi credi Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi E resterò al tuo fianco fino a che vorrai Ti difenderò da tutto, non temere mai E' amore mio grande, amore che mi credi Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi E resterò al tuo fianco fino a che vorrai Ti difenderò da tutto, non temere mai A presto